Ho iniziato la scuola in ferimiedi che non avevo neppure 17 anni. Finito il corso ho lavorato saltuariamente tre mesi da una parte, tre mesi dall'altra, fino ad arrivare al posto di lavoro che occupo tuttora. Il periodo più bello, più soddisfacente di questi 40 anni di quasi carriera l'ho avuto nei primi anni 80-90, dove essere infermiera era a 360 gradi, non come adesso che viene codificato dai vari protocolli che ci vengono posti. Lì potevi gestire la salute della persona nella sua interezza. Ricordo perfettamente quel giorno lì, era un giorno di sciopero nazionale io ero l'unica infermiera in servizio perché c'ero io sola in quel posto lì e comunque fui percettata. A un certo punto entrarono un ragazzo che avrà avuto una trentina d'anni, la moglie 28 e il marito teneva in braccio questo neonato. tranquilli, era vista così tranquilli, però guardando negli occhi lui sembrava che avesse fatto un viaggio infinito che durasse da giorni senza quiete. E guardandola lei era tutta sorrisini, ma sorrisini falsi, finti e non riuscivo a capire. E dico buongiorno ditemi, e cercando il psicologo. Abbiate pazienza, ma forse non lo sapete, oggi c'è sciopero, psicologi non ce n'è né qui né da altre parti. Però guardando oltre vedevo lui appunto stanco con questo bambino che sembrava tenesse un fagotto e la moglie che ogni volta che lui parlava lo rimarcava aspramente. Ma ditemi cosa posso fare o se no faccio quello che farai io per me. E loro rispondono no, fai un po' quello che faresti per te. E in pochi secondi, perché non è che puoi metterci delle ore a decidere quello che può essere o meno bene di una persona. I psicologi, i consultori sono chiusi, chiamo il servizio di salute mentale, qualcuno ci sarà. E mi risponde la psichiatra e mi dice dimmi e dico guarda qui c'è un uomo con in braccio un bambino che sembra che non abbia niente in mano, non so come spiegarmi. Lei che ride, scherza, però ha lo sguardo perso nel vuoto e vogliono lo psicologo. Non ce l'ho io lo psicologo, cosa ne faccio? E lui mi dice mandameli giù subito dalla descrizione che io avevo fatto di questi sguardi, di quello che io vedevo queste due persone. Loro se ne vanno, dopo un due ore mi chiamano la psichiatra e mi dice per fortuna hai deciso di telefonare e hai mandato giù queste due persone perché la mamma aveva deciso di uccidersi quel giorno lì con il bambino. E io sono rimasta bene, grazie, ciao. A distanza di tanti anni io mi incontro, perché vivo in un paese piccolo, spesso con questa persona, con questa donna che nel frattempo si è separata, si è risposata, un altro figlio. E non c'è volta che lei non mi venga vicino, magari mi abbraccia, mi fa una carezza, mi dice grazie, si mette a piangere. Però non abbiamo mai parlato profondamente o meno di questo fatto. Per me essere infermiera è questo, è cercare di dare all'altro il bisogno di cui ha. E non esiste master, non esiste nessuno che te lo può dare, lo devi scavare dentro di te e tirarlo fuori.